Ciao da Absim! Avete visto Sandro Tonali? Lo state vedendo? Certo, lo stiamo vedendo, lo stiamo ammirando e forse lo stiamo anche un po' invidiando da non tifosi del Milan, perché è un bel centrocampista che il Milan ha preso, un centrocampista forte, un centrocampista che sta migliorando e ancora può migliorare, può diventare una bandiera del Milan e anche un simbolo per il calcio italiano. Un centrocampista ha pagato relativamente poco, 17 milioni circa, da parte del Milan al Brescia per accaparrarselo e anche questo è il dato che ci fa invidia come giuventini, perché la Juventus per centrocampisti e non solo in questi anni, ma pure di recente, non è che dobbiamo tornare indietro a Marotta o a quello che ha fatto in particolare Paratici, di soldi ne ha spesi veramente a valanga la Juventus, ne ha sperperati per centrocampisti e non solo. Invece vediamo un Milan, ma non solo, anche altre società in Italia e in Europa che hanno speso di meno di quello che ha speso la Juve per giocatori che poi andiamo ad ammirare, ad apprezzare e ad invidiare. Com'è possibile? È una questione chiaramente di progetto tecnico, perché quando compri un giocatore e lo paghi, qualunque cifra lo paghi, poi lo devi valorizzare, cioè devi far sì che quel giocatore come minimo rimanga forte come era quando l'hai acquistato, almeno per qualche anno, poi andrà a indebolirsi con l'età, invecchiando, ma l'ideale sarebbe che diventi più forte di com'era quando l'hai acquistato, di com'era prima che venissi a giocare da te, altrimenti uno, quei soldi che li spendi a fare per far vedere che ce li ha, vanno spesi, considerando che non sono soldi di chi li spende, cioè dei direttori sportivi, ma manco del presidente, nel caso della Juve sono degli azionisti e sono in particolare di Exor, e quindi devono essere fatti fruttare, quei soldi li devi spendere, perché riconosci al proprietario del cartellino del giocatore un valore che dovrebbe poi essere sfruttato appunto negli anni successivi, cioè paghi tonali 17 milioni, forse poco, o forse giusto, ma sicuramente non troppo, perché pensi che possa darti qualche cosa negli anni successivi e vuoi fare una scommessa di quel tipo, magari senza andare a spendere invece 40 milioni, 50 milioni per un centrocampista, che rischi che sia un investimento sbagliato, perché rischi che non ti frutti quanto dovrebbe in funzione della spesa che sei andato a sostenere. E quanti esempi abbiamo nella Juve recente di questo tipo di errore? Giocatori pagati troppo? E ripeto, purtroppo non dobbiamo andare tanto indietro, io sono andato indietro fino alla stagione 2017, va bene, ma giusto per ricordarvi qualche situazione scabrosa, poi per esempio nella 18 saltiamo, andiamo direttamente alla 19, dalla 19, poi arriviamo anche alla stagione scorsa, insomma 20-21, con tante operazioni che ad oggi sono risultate non sempre fallimentari, ma molto spesso negative, rispetto ad altre operazioni, ad altri giocatori di cui vi faccio nomi tra poco, che avrebbe la Juve potuto prendere a meno soldi, o che comunque sono stati acquistati dalle relative società per meno soldi, e sono più forti, e li invidiamo, e allora il problema probabilmente è duplice, da una parte la Juventus non è in grado di scegliere i giocatori giusti da comprare, e poi quindi compra dei giocatori che non valgono quanto quelli che poi andiamo ad ammirare e ad invidiare, cioè sbagliamo a comprare. Da un'altra parte, al di là della cifra che spesso è troppo alta, non siamo neanche in grado di valorizzarli poi quei giocatori, e vedendo quello che sta facendo Allegri in panchina, ti spieghi anche facilmente perché. Non riusciamo a valorizzarli perché scegliamo pure male gli allenatori. Abbiamo dato a Sarri una rosa che non era da Sarri e non aveva alcun senso neanche per qualunque altro allenatore, era proprio una rosa che non aveva alcun senso. Abbiamo dato a Pirlo una rosa fresca, più giovane, con lui che non aveva mai allenato e non poteva manco fare il precampionato per conoscerli i giocatori, e adesso ad Allegri diamo una rosa più o meno giovane come quella dell'anno scorso e con dei giocatori che lui non riesce a valorizzare, spendendo anche di più a gennaio, non contenti di quello che si era speso prima, per rovinare anche Vlaovic. Per rovinare anche Vlaovic. E allora andiamo a fare questa piccola carrellata. Partiamo da qualche anno fa, dai, così vi faccio contenti, avete la possibilità di dire, eh, ma quella era colpa di Marotta, eh, ma quella era colpa di Paratici, eh, ma era prima della pandemia, eh, ma era un'altra dirigenza. Tutte cose che non sono neanche delle banali scuse, possono anche essere delle valide argomentazioni, ma non sono l'argomentazione chiave, l'argomentazione principe definitiva. Ci sono poi anche delle contro-argomentazioni che, diciamo, tolgono valore a questo discorso qua, perché comunque, anche all'epoca, la Juve spendeva di più di altri per giocatori che valevano meno di altri. Non era solo perché c'erano più soldi, ipoteticamente, o, appunto, non è che poi adesso abbiamo smesso di spendere troppo perché è cambiata la dirigenza. E quindi sono argomentazioni che non hanno vita, non hanno vita breve. Bernardeschi pagato 40 milioni. Bernardeschi pagato 40 milioni. Ora, tu vedevi Bernardeschi e dicevi ti voglio dare 40 milioni perché alla Fiorentina ha fatto delle belle cose, era un bel giocatore, mi può diventare veramente un giocatore forte, un giocatore importante. Diciamo che ci poteva anche stare, riconoscere alla Fiorentina e a Bernardeschi un certo valore, non 40 milioni, considerando che 40 milioni l'ha pagato, ha pagato il Liverpool, salà. Salà. È costato 40 milioni, lo stesso anno, tra l'altro, se non ricordo male. Ma, per dire, simili a Bernardeschi, diciamo, simili, cioè il sovrapponibile come ruolo, anche se non esattamente. L'Arsenal, per esempio, ha cresciuto da zero. Saka. Saka è cresciuto nelle giovanili dell'Arsenal. Chi è più forte tra Saka e Bernardeschi? Meson Mount è cresciuto nelle giovanili del Chelsea. Chi è più forte tra Mount e Bernardeschi? O voi mi dite, eh, ma quelli hanno avuto, sono cresciuti nelle giovanili. Eh, ma la Juve chi cresce nelle giovanili? Adesso c'è qualcuno che sta crescendo nelle giovanili. Ma la Juve che cosa ha intenzione di fare? Rinnovare il contratto a Bernardeschi o far crescere questi giovani per vedere se possono diventare i Saka e i Mount di turno? Io mi auguro la seconda, ma ho ancora timore che possa essere rinnovato il contratto a Bernardeschi. E comunque, se si deve scegliere tra Sule o Ake, attualmente validi per quella posizione, e Bernardeschi, chi parte titolare, secondo voi? E quindi torniamo al discorso dell'allenatore. Oppure Smith-Rowe, anche cresciuto nelle giovanili dell'Arsenal, altro giocatore dell'Arsenal. Dice, ma siamo andati in Premier League, ma lì è diverso. Va bene, allora andiamo a vedere altri giocatori e ripeto, poi ci avviciniamo anche a Tonali. Per esempio, anche Douglas Costa ha pagato 46 milioni. È stato un giocatore molto utile per la Juventus, probabilmente più di Bernardeschi, ma era fragile ed è stato pagato troppo per quella che era la sua vita utile alla Juventus. Mentre, per esempio, ha più o meno la stessa cifra. Il Manchester City ha comprato Bernardo Silva nel 2017 a 50 milioni. Cioè, il Manchester City ha comprato Bernardo Silva. Ecco perché poi dite, no, ma il Manchester City è fortissimo. Guardiola non ha nessun merito, hanno speso miliardi. Hanno speso quasi quanto la Juve nell'ultimo decennio, un po' meno, a dire la verità. Però poi, vedete, 50 milioni, l'oro li spendono per Bernardo Silva, non 46 per Douglas Costa. E allora, chi è che ha il merito? Che hanno i soldi? Cioè, la stessa cifra, capite? La stessa cifra. E quindi c'è l'errore proprio nella scelta del giocatore. E come si fa a dire, ma la Juve, se avesse offerto 50 milioni, non sarebbe riuscito a comprare Bernardo Silva, mentre il Manchester City sì. Perché Bernardo Silva può avere, può vedere maggiore appetibilità, interesse nel Manchester City? E allora, di chi è la colpa? È colpa del Manchester City o è colpa della Juve? Anche lì. Cioè, è un problema di scelte che sono state fatte da parte della dirigenza. Oppure, Christopher Nkunku, che è andato all'Ipsia qualche anno fa per 13 milioni di euro. Cioè, mi viene da piangere. 13 milioni di euro un Nkunku che oggi io vorrei per sostituire Dybala. Compratemi un Nkunku. Va benissimo. Per me è l'ideale per sostituire Dybala anche per il futuro. È uno dei nomi ideali. 13 milioni l'ha pagato l'Ipsia ed è attualmente certamente più forte di Bernardeschi pagato 40. Ma anche di Kulusevski pagato 44 e poi venduto per meno quanto saranno alla fine 35 di riscatto. 35-40 di riscatto e che adesso è diventato un giocatore serio al Tottenham con Conte ma nel frattempo il Real Madrid comprava Vinicius per 45 milioni ha comprato anche per gli stessi 45 milioni adesso a gennaio il Liverpool ha comprato Luis Diaz oppure il Manchester City ha comprato Sané per 52 che poi è stato venduto al Bayern per 60 oppure il Milan che ha comprato Leao per 30 milioni. Chi è più forte in questo momento? Tra Leao e il Kulusevski della Juve o tra Leao e Bernardeschi 30 milioni il Milan per Rafael Leao oppure ancora l'Arsenal Gabriel Martinelli pagato 7 milioni di euro 7 milioni di euro per Martinelli perché noi dobbiamo spenderne 44 per Kulusevski o ancora Chiesa Chiesa con tutto il bene costa 60 milioni la Juve adesso con il riscatto compresi i bonus il Bayern ha preso Gnabry per 8 milioni ha preso Coman per 28 venduto proprio da noi cioè noi abbiamo venduto Coman per 28 milioni e poi prendiamo Chiesa 60 Ferran Torres al Manchester City per 34 milioni per 34 poi è stato venduto al Barcellona per 55 comunque meno di Federico Chiesa oppure Rodrigo il Real Madrid l'ha pagato 45 milioni in Brasile 45 milioni eh ma quello è il Brasile questa è la Fiorentina cioè che vuol dire che vuol dire sono semplicemente cifre sbagliate chi è più forte banalizzando magari sul dire chi è più forte ma chi è più forte e io voglio bene a Federico Chiesa ho la maglia qui dietro perché l'anno scorso è stato un giocatore straordinario speriamo che torni ai livelli della stagione di Pirlo che quest'anno finché c'è stato non lo è stato così forte perché Allegri ha peggiorato pure lui ma vale 60 milioni Federico Chiesa comunque possiamo dire che valga 60 se gli altri valgono chi 34 55 28 45 e questa è la domanda oppure lo stesso Vlaovic 90 milioni compresi bonus ma perché il Manchester City riesce a prendere Holland a 75 che è la clausola eh ma è la clausola eh ma è il Manchester City tutto quello che volete ma 75 se è la clausola la può pagare chiunque e comunque resta il fatto che Vlaovic costa 90 milioni e Holland a 75 poi che sia una clausola che sia il Manchester City cambia poco il valore l'abbiamo pagato troppo Vlaovic questo è il punto pagato troppo Vlaovic a prescindere adesso da quanto lo stia peggiorando Allegri da quanto potrà fare in futuro non vale 90 milioni a 22 anni Vlaovic se Holland che è coetaneo ne vale viene venduto a 75 quindi vale sicuramente di più ma poi avremmo potuto prendere invece di Vlaovic o invece di Morata costato 20 milioni per il solo prestito o invece di Ken che se lo riscattiamo costerebbe 38 milioni Jonathan David ha 50 milioni di valore attuale Darwin Nunez ha 40 milioni di valore attuale Alexander Ishaq ha 40 milioni di valutazione attuale per fare tre nomi così ma ce ne sono anche altri e invece andiamo a spendere 90 per Vlaovic per farlo segnare meno che alla Fiorentina e per uscire comunque agli ottavi di Champions per uscire comunque agli ottavi di Champions poi dobbiamo parlare anche dei difensori e dei centrocampisti parliamo prima dei difensori per esempio Pellegrini noi l'abbiamo pagato 22 milioni dice ma c'era lo scambio con Spinazzola abbiamo fatto plus valenza sì ma non è che ti è piovuta dal cielo la plus valenza o qualcuno ti ha costretto è stata una scelta sbagliata quella di fare questi scambi alzando i valori reciproci per fare la plus valenza reciproca che poi non è fittizia non ci sarà probabilmente nessun tipo di condanna in tal senso ma resta un errore dal punto di vista strategico perché tu tra l'altro farai pure plus valenza ma 22 milioni di costo a bilancio di Pellegrini li devi comunque iscrivere e li devi anche pagare come cash per fare cosa per mandarlo due anni in prestito e fargli fare quest'anno la riserva mentre per esempio il Lipsia dal Manchester City anche Ligno che è un esterno sinistro forte l'ha pagato 20 il Lipsia anche Ligno l'ha pagato 20 chi è più forte tra anche Ligno e Pellegrini con tutto il rispetto per Luca che è un altro ragazzo a cui voglio bene cioè che è un giocatore in cui spero in cui ho fiducia ma di che cosa stiamo parlando dice ma non l'avremmo mai pagato 22 se non avessimo dato Spinazzola alla Roma per 29 e chi ti ha costretto a farlo chi li ha costretti a farlo oppure Romero l'abbiamo pagato 31 milioni al Genoa per non fargli fare manco una partita e poi l'abbiamo venduto con minus valenza all'Atalanta che ci ha fatto plus valenza più di 50 milioni al Tottenham mentre per esempio Koundé dal Siviglia è stato pagato 25 chi è più forte tra Koundé e Romero che la Juve compro perché adesso magari se la giocano grazie a Gasperini e grazie a Conte ma quando la Juve lo compro che giocatore era dice ma noi abbiamo fatto le plus valenze col Genoa stesso discorso ma anche lì ma chi ti ha obbligato ad iscrivere questi costi a bilancio per giocatori che manco fai giocare Upamecano al Bayern 43 milioni e si è costato di più ma quanto rispetto ai 31 di Romero e gioca titolari il Milan Tomori l'ha pagato 30 il Milan Tomori l'ha pagato 30 oggi chi vorreste Romero vorrei io Tomori entrambi volendo ma sicuramente non ancora Chiellini o Bonucci o comunque dipendere dalla condizione fisica di Rugani perché a un certo punto ti salta la difesa perché sono vecchi e devi mettere Rugani con De Ligt che per carità è fortissimo l'abbiamo pagato 85 milioni ma 85 milioni per un difensore di quelle caratteristiche per sbatterlo in area di rigore è uno spreco è uno spreco senza contare lo stipendio e poi ancora per quanto riguarda i terzini lasciando stare cioè Danilo l'abbiamo pagato 37 e anche lì era in scambio con Cancelo ma chi ti ha costretto a vendere Cancelo per fare plusvalenza per prenderti Danilo a 37 che ha fatto una stagione orribile una stagione ottima e una stagione di medio livello come quest'anno quest'anno Danilo è tornato un giocatore normale l'anno scorso è stato un giocatore straordinario quest'anno un giocatore normale normalissimo mentre Trent Alexander Arnold è cresciuto nel Liverpool Rhys James è cresciuto nel Chelsea per esempio cioè esterni anche qui vogliamo crescere qualcuno vogliamo trovare qualche giovane terzino destro invece di doverlo sempre comprare adesso che Danilo comunque ha i suoi 30 anni con chi lo sostituiamo non abbiamo la minima idea dobbiamo andare a spendere soldi mentre Cancelo ce l'avevamo Cancelo ce l'avevamo e poi arriamo alle dolenti note se queste fin qui non lo sono state abbastanza che sono quelle appunto del centrocampo McKennie l'abbiamo pagato 25 milioni signori vorrei ricordarvi che McKennie l'abbiamo pagato 25 milioni di euro Gravenberg ha una valutazione di 35 Di Clan Rice è cresciuto nel West Ham Tonali il Milan l'ha pagato 17 Anghissà il Napoli l'ha pagato 16 lo pagherà 16 riscattandolo chi è più forte tra Anghissà e McKennie ma ce ne sono anche altri che sono più forti di McKennie non devo neanche scendere tra virgolette a livello di Anghissà Tonali chi è più forte tra Tonali e McKennie diciamo hanno caratteristiche diverse ma McKennie non è indispensabile in un centrocampo onestamente io ci rinuncerei per avere un Tonali invece ma ce ne sono anche altri per esempio anche rispetto a Lucatelli che costerà 38 milioni ricordiamo bene la cifra oltre 76 milioni per Artur che va bene la plus valenza con Piani c'è anche lì ma chi ti ha costretto Lucatelli alla fine costerà 38 milioni e lo stiamo già pagando perché sono stati anticipati i costi del riscatto e Foden per esempio è cresciuto nel Manchester City 0 Pedri il Barcellona l'ha pagato 18 milioni Bellingham il Dortmund l'ha pagato 25 milioni Valverde il Real Madrid l'ha pagato 5 milioni Camavinga il Real Madrid l'ha pagato 31 milioni non ce n'è uno di questi che vi ho nominato che costi neanche lontanamente più di Locatelli solo Camavinga costa 31 Locatelli 38 lo capite e Tonali 17 cioè io oggi farei cambio netto dice vi diamo Locatelli mi prendo Tonali adesso in questo preciso istante ma il Milan ovviamente non lo farebbe Locatelli non vorrebbe tornare al Milan perché c'è già stato ed è Juventino e mi raccomando prendiamo i giocatori Juventini che così vinciamo tutto e siamo fortissimi Tonali è milanista e vuole stare lì ma la scelta non è sulla fede calcistica la scelta è sulla qualità sulle caratteristiche del giocatore sul giocatore che ti serve ora ce ne sono anche altri che avrei potuto menzionare qualcuno vi sembrerà offensivo offensivo dire fare paragoni con giocatori che sono cresciuti nel vivaio ma il discorso è sempre questo la Juve ha avuto l'opportunità in passato di crescere i giocatori nel vivaio e di sfruttare quelli non l'ha fatto adesso ce l'ha di nuovo questa opportunità Fagioli Miretti Rovello è stato comprato poi Sule che è stato comprato ma di recente ed è comunque molto giovane A che stesso discorso è arrivato l'anno scorso è arrivato da un anno e mezzo ma è comunque molto giovane e poi ce ne sono anche altri per esempio De Winter Dragosini che è stato mandato in prestito come difensori abbiamo anche in attacco qualcos'altro ci sono giocatori che sono validi delle giovani della Juve che cosa faranno adesso visto che si dice no ma quelli sono cresciuti nel vivaio non puoi fare il paragone facciamo il paragone con quelli cresciuti nel vivaio della Juve se gli sarà dato spazio se gli sarà data l'opportunità di essere valorizzati e di dimostrare quanto valgono mentre la Juve ha continuato anche adesso 60 milioni per Chiesa 90 per Vlaovic 38 per Locatelli 38 ipotetici per Ken 25 per McKennie ha continuato a spendere e sperperare per giocatori che valgono meno di quello che sono stati pagati e meno di quelli che sono stati pagati di meno ma che valgono di più in giro per l'Europa ma anche per l'Italia compreso Tonali al Milan la colpa di chi è si può criticare allora questa dirigenza quanti disastri ancora deve fare questa dirigenza anche se è cambiata ma Agnelli e Nedved sono sempre gli stessi prima che venga sostituita prima che vengano rimpiazzate queste figure prima che si possa tornare a fare programmazione sportiva che si è smesso di fare nel lontano 2017 appunto post Cardiff grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti su Tonali sugli altri nomi che vi ho fatto sulla rosa della Juventus che si dice sia scarsa però costa più delle altre rose chissà come mai like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti se vi va abbonatevi a questo canale per sfruttare tanti vantaggi vi bastano 99 centesimi al mese per avere per esempio la programmazione in anteprima con orari e argomenti dei nuovi video in uscita l'accesso alle chat riservate sul mio server discord e l'accesso in esclusiva alla chat live dei miei post partita della Juventus ci vediamo molto presto e sempre forza Juve